Stefano Banfi, una partita a due volti, quanta amarezza c'è al triplice fischio? Tantissima, anche perché fino al 93 non ero riusciti a tenere, poi mi è preso un gol un po' così, quindi sì, fa male. Paradossalmente viene quasi da recriminare per un primo tempo chiuso 2-0, ma che poteva essere un risultato anche più ampio. Siamo entrati in campo con la testa giusta, siamo riusciti a indirizzare in un determinato modo, abbiamo fatto un buon primo tempo, siamo anche entrati con la testa giusta, poi l'espulsione ha cambiato probabilmente la partita, anche io un po' dubbio perché due giorni in due minuti, però a parte questo, boh. Venendo a te invece, prima partita, primo gol, chiaro che lo spirito di squadra ha sempre la priorità, però come è vissuto questa prima partita a livello personale? Rimane sempre questo male in bocca perché sì, ho fatto gol, però alla fine non è arrivata la vittoria, quindi diciamo sì, è servito, però non ha lo scopo principale, cioè vince, perché noi dobbiamo vincere. Testa gialla al Benga dunque? Assolutamente sì, adesso martedì con la rabbia che ci ha lasciato questa partita per ripartire e fare una gran settimana per arrivare alla prossima partita al massimo.